133 Sono dell'artista in gruppo in corso a regina C'è un incendio, ci sono 3 o 4 ragazzi bruciati Bruciati o carborizzati? 6 morti sul lavoro in un solo giorno, sembra davvero inarrestato E' morto quasi certamente per soffocamento Nicola Gadaleta, 50 anni mentre stava lavorando in un sementificio di Cerignola nel Foggiano Due gravi incidenti sul lavoro a Brindisi e a Lecce Un operaio è morto e altri 4 sono rimasti uscionati nella zona industriale 62 anni, muratore, lavorava su un ponteggio precario Giuseppe Caracausi è morto Giuseppe Caracausi è morto e non è morto e non è morto Grazie a tutti.